eh si e no sto qua perché c'era solo Alessandro e Adriana eh si 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 mo ti vedo eccole si eh no te ne va a rispondi a te ti l'ha fatto il gol? eh ho visto eh oh ciao Giuliano eh si è ricazzo eh si ah Massimino sta apposta ripresa diretta eh papera del portiere sta apposta ok si 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 oi 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 meno male